Ti rendi conto, Mario, di questa cappella meglio tenuta della Chiesa? Ti rendi conto che questa è l'ultima cappella esterializzata? Nel 1895, da Garitano d'Agostino? Ti rendi conto? Ti rendi conto che qua ci sono sulla porta la storia di Sant'Andrea? Ma che c'è, Mario? Tu ne fai faccio a chiesa, ma che dici? Ti rendi conto che questo è San Paolo d'Aeropadio? Ti rendi conto che questo è Gesù dalla presa miracolosa? Ti rendi conto, ma che dici? Ma era l'ultima, ma sai? Ma c'è tutto, ma c'è tutto, ma c'è tutto, ma c'è tutto, mamma mia! Vieni, vieni, vieni! Fermate, fermate, salvatore! Vi aspettiamo tutti i sabato del mese di maggio con due visite guidate, ore 11 e ore 17 e domenica, 28 maggio, con altre due visite guidate solo con Heracles 2015 Vi aspettiamo, non mancate! Vieni, ma... Vi aspettiamo, non mancate! Vi aspettiamo che questo Natale che è presente Vieni, ma non è Role! Vieni, vieni! Vieni, ma c'è tutto che così! Grazie a tutti